ragazzi facciamo la iraconda via due tacche me le sono cicciate no si sale la Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Oh! Qu'est-ce que c'est ? Grazie a tutti. Ti dico io quando c'è il pezzo ripido. Come vuoi. Bella, bella città. Occhio qua eh. Occhio qua. Occhio qua. Occhio qua. Occhio qua. Occhio qua. Occhio qua. Bella. Cominciamo con l'eroica. Occhio qua. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che bello! 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 Grazie a tutti. Bello. Passaggino, molto carino. Dai, dietro, dietro, tutto dietro, dai, tiene bene, tutto dietro. Ok, frena, frena, frena. Che stacolo. Vediamo? Bello, bello. Vediamo un ritmo. Vediamo un ritmo. Grazie a tutti Grazie a tutti